Hanno seminato il terrore all'interno dell'ufficio postale, facendo ripiombare la marca, assieme anche all'altro colpo in centro storico a Treviso, nell'incubo delle rapine. Armati di pistole e giocattolo hanno preso in ostaggio una donna delle pulizie di 41 anni, procurandole una prognosi di tre giorni, fino a farsi consegnare il bottino di 15.000 euro. A 24 ore dall'assalto alle poste di Lovadina è arrivata pronta la risposta delle forze dell'ordine. I carabinieri di Treviso hanno stretto le manette ai polsi dei due rapinatori. Si tratta di Fabio Pappalardo, di 31 anni, e di Mario Dinunzio, di 47 anni, entrambi residenti a Catania. Si erano fatti ospitare nell'appartamento del figlio di uno dei due, poco distante dalle poste, in via Leopardi a Visnadello, a tradirli le loro mantelle giallo e azzurro, con le quali hanno girato per tutto il paese fino a rientrare nell'appartamento. Ed è stato proprio grazie alle testimonianze della gente che i militari dell'arma sono arrivati ai due. Grazie a alcune segnalazioni che avevamo avuto di persone che non erano del luogo, abbiamo potuto indirizzare le nostre indagini, perso un punto ben preciso, ed individuare un'abitazione nella quale stamattina poi abbiamo fatto una perquisizione e che ha dato i suoi frutti. All'interno dell'appartamento i carabinieri hanno ritrovato il materiale utilizzato durante la rapina, dal poncio alle due pistole giocattolo. Già caricato in un trolli c'era parte del bottino, 3.500 euro. Probabilmente, secondo gli investigatori, i due avrebbero abbandonato l'appartamento per rientrare in Sicilia già nel pomeriggio. Abbiamo recuperato sia la rifurtiva che l'attrezzatura che ha servito a questi individui per mascherarsi e cercare di, diciamo, confondere le proprie sembianze. Una rapina studiata in ogni minimo dettaglio. I due banditti erano stati notati da giorni all'esterno dell'ufficio postale mentre osservavano gli spostamenti della gente. Per questo le informazioni raccolte dai carabinieri sono state molteplici. I carabinieri appena venuto all'evento si sono subito messi in giro, hanno sentito decine di persone cercando di raccogliere testimonianze ed eventuali indizi. Questo metodo è stato vincente in quanto siamo riusciti in poco tempo a venire a capo di questo evento.